Ecco che l'acqua inizia a scorrere, il meccanismo è quello che abbiamo visto precedentemente, l'acqua si riempirà d'acqua sino a raggiungere il livello del naso e della bocca ed è lì che lei dovrà resistere in apnea. L'acqua scorre lentamente, è una prova di concentrazione prettamente, quindi dovrà tenere a bada i pensieri, rimanere concentrata sull'obiettivo se il suo obiettivo è quello di rientrare in gara con i naufraghi dell'isola dei famosi. Il tempo scorre, Nathalie sembra molto concentrata, non sento tanto tifo da quelle parti. Il bello dell'acqua che permette ancora di respirare tranquillamente, credo che il tifo urlato porti a deconcentrarla e quindi credo che sia meglio il silenzio come nelle partite di tennis. Nathalie si è graffiata leggermente il naso, ma questo non compromette la prova.